Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio delle Custom Card. Oggi farò un video in italiano e vi farò vedere tutto quello che c'è da sapere. Ok, quindi partiamo dalla carta, vi faccio vedere anche la freccia. In questo caso la freccia a destra è giusta perché voglio fare una carta di Bray Wyatt, ma se volete cambiare la freccia, abbastanza prendere il selezionatore, selezionare la freccia, copiarla, aprire un nuovo file, incollarla, rimuoverle sfondo premendo l'occhio in pratica, in modo che non lo rendete più visibile, andate in immagine, rotazione immagine 180 gradi, dopodiché utilizzate ancora il selezionatore, copiate, incollate, ed ecco la vostra freccia sinistra. Stessa cosa per freccia in alto e in basso, ma a me non interessa, faccio tasto destro ed elimino il livello. Ok, quindi potete anche aggiungere gli effetti facendo doppio clic e aggiungere, io aggiungo sempre bagliore esterno e bagliore interno, poi se volete anche l'ombra esterna, carina. Quindi, passiamo alle statistiche, per modificare le statistiche basta fare doppio clic su questo riquadro, dove vedete la T, e dopo scrivere la statistica che volete, tipo 4543, la stessa cosa. fate lo stesso con le altre, mettete le statistiche che volete, quindi andiamo alla, vabbè, la mossa finale, l'ho già inserita, eppure anche l'aumento delle statistiche, forza e carisma. Quindi andiamo nel prologo, normalmente dovrebbe essere così, ecco, esattamente così. Però, se vi piace di più la stella oro, abbastanza selezionare il colore giallo, selezionate lo strumento sostituzione colore, non selezionate lo strumento pennello, perché guardate che schifezza fa, contro Z, per tornare indietro, selezionate lo strumento sostituzione colore, in modo che colorate solo nel vostro livello. E in più il colore è anche migliore, non esce quella schifezza. Infatti guardate, anche se provassi a colore qua, che cosa esce, mi cancella tutto quello che c'è sotto, quindi, non mi va per niente bene, e lo faccio così. Quindi, vabbè, si può anche cambiare il nome del pro, ma, bah, non l'ho mai fatto, non ha neanche tanto senso. Poi il nome, inserite il nome, e, poi, vabbè, qua c'è il background, lo sfondo, composto da tutte queste parti. Vabbè, che a noi non interessano, perché farò uno sfondo tutto mio, quindi andiamo nelle immagini di Bray Wyatt, che io ovviamente ho preso dalla rete, se ci sono delle parti che non vi interessano, guardate, apro un'immagine a casaccio, tipo, questa qua di EJD, ad esempio queste parti qua, lo sfondo nero non vi interessa, quindi lo selezionate, poi se vi va bene, non seleziona neanche una parte dell'immagine, l'ho fatta in due secondi, utilizzate il selezionatore, il cursore, come volete chiamarlo, e lo spostate fuori. Se invece vi amare, tipo adesso, potete fare l'inverso, selezionare la carta dall'interno, e magari va meglio, in effetti va molto meglio, se invece, anche così, non riuscite a selezionare alcune parti, perché vi seleziona automaticamente lo sfondo, come se facessi così, e non lo volete, abbastanza usare questo strumento, e selezionare la parte che non volete, nella vostra immagine, vabbè, poi dipende tutto dall'immagine, e utilizzare comunque il cursore, spostarlo fuori, poi utilizzare questo coso qua, seleziona il rettangolare, in modo che deselezionate il pezzo di sfondo che non volete, vabbè, torniamo all'immagine di Bray Wyatt, ho il mio selezionatore, siccome seleziona molto lentamente, guardate come è piccolo, io posso aumentare la dimensione, aumentarla anche a 100, anche a 400, come volete, selezionarla con un solo clic, quindi copiamola con CTRL-C, e incolliamola con CTRL-V, poi spostiamola sotto il livello, in modo che non copre niente, e la mettiamo qua, se l'immagine vi sembra un po' troppo grande, in teoria, ci dovrebbe essere uno strumento che ti permette di ridurre l'immagine direttamente da qua, perché l'immagine dovrebbe avere dei quattro angolini e ridurlo, ma ho provato a cercarlo dappertutto, ma non c'è, non so proprio dove sia, allora io faccio così, torniamo indietro, andiamo nell'immagine, andiamo qui, immagine, dimensione, immagine, cambiamo la dimensione, ad esempio io la voglio un po' più piccola, quindi metto 13 di larghezza, l'altezza si regola da solo, in automatico, e poi la riseleziono, la copio, la sposto qua, e la rincollo, non so dov'è che me l'abbia messa, torniamo indietro, selezioniamo qua, e la incollo, quindi la sposto qua sotto, ed ecco qua la mia immagine, un po' più piccola, poi possiamo aggiungere gli effetti, aggiungiamo sempre bagliore esterno, bagliore interno, ombra, e quindi aggiungiamo lo sfondo, una palude, diciamo, copiamola, incolliamola, spostiamola sotto Bray Wyatt, in modo che non lo copre, e ora spostiamola, un po' la palude, per fare, una carta migliore, diciamo, uno sfondo migliore, poi ovviamente potete anche rimpicciolirlo, ingrandirlo, a vostro piacimento, vabbè così, è abbastanza carino, quindi, vabbè a parte, la maglia di Bray Wyatt, che è con quei colori di, stona un po' con lo sfondo, ma vabbè, quindi, coloriamo la carta, passiamo a colorare, selezioniamo il layer, quindi, utilizziamo questo strumento, contagocce, perché se io voglio un colore simile a quello del mio sfondo, utilizzo il contagocce, prendo, prelevo il colore, so che è questo colore, quindi, utilizzo il pennello, quello di sostituzione colore, come sempre, e posso iniziare a colorare, ok, beh, diciamo che tra sfondo e, carta, colore della carta, sono simili, infatti di solito, tendo a farli un po' diversi, faccio lo sfondo, un po' più scuro, oppure coloro la carta, con un colore un po' più scuro, eccetera, beh, per esempio, se io lo faccio così, forse viene un po' meglio, ingrandiamo lo strumento, viene un po' più sul nero, grigio, però, aumentiamola ancora un po' di più, vediamo cosa esce, beh, è simile al colore normale della carta, però, a me, ma, è un po' più diverso dallo sfondo, risulta molto più bello, se invece io provo a prendere questo colore qua, mi sapevo che mi esce grigio, no, aspetta, ho sbagliato, strumento sostituzione colore, e infatti mi esce grigio, e non lo voglio così, quindi preferisco come era prima, torno un po' indietro, non so neanche di quanto, prendiamo magari questo di qua, che è un po' più scuro di questo, no, è rotta un po' più chiaro, ok, lasciamolo così, ah, quindi possiamo anche colorare, la barra del livello, abbastanza andare, eh, statistiche, livello, e colorarlo, come lo vogliamo, magari un po' più chiaro, così un po' troppo, direi, vabbè, magari, no, secondo ho sbagliato, cacchio, vabbè, lasciamolo così, poi, possiamo anche colorare, delle altre parti delle carte, prendendo, sempre più o meno, questo colore, ecco, così è già un po' meglio, coloriamolo così, ok, e possiamo colorare, altri parti, quindi diminuiamo la dimensione, non uno, magari, perché se no ci mettiamo 3 mila anni, e coloriamo, non so, questa parte qua, no, devo prima selezionarla, è vero? No, poi questa qua non va bene, perché è troppo vicino al livello, quindi, coloriamo per esempio questa parte qua, poi magari coloriamo questa striscia qua, e anche questa qua, qua in basso, come mi è solito fare, coloro sempre queste parti, ed escono sempre belle le carte, eh, quasi sempre, poi magari coloriamo anche questo angolino, se proprio vogliamo, e fate quello che volete, colorate come volete, eh, magari sì, scuriamo anche questo, magari, prendiamolo grigio, così, per cambiare colore, io faccio tutto di fretta, di solito, non ci sto tanto a pensare, perché, eh, diciamo che, sono molto fantasioso, riesco a inventare molto, facilmente, in poco tempo, tutte le cose, eh, vabbè, quindi, aspettatevi, devo far vedere qualcosa altro, ah, sì, gli ultimi effetti, quindi, prendiamo ad esempio lo sfondo, doppio clic, e apriamo lo stile livello, poi, si può cambiare il texture, e prendere questo, per esempio, ma non così, potete aumentare la scala, diminuirla, ma, io di solito cerco, di farlo in un modo che, non faccia tanto schifo, in poche parole, cioè, non così che copre tutto, ok, facciamo ad esempio così, e anche la profondità, possiamo aumentarla, diminuirla, è una vera schifezza, aumentarla è una vera schifezza ancora, bisogna lasciarla più o meno normale, vabbè, possiamo metterla così, ok, per schiarirlo un po', quindi, traccia, ah, traccia, aspettate, scelgo Bray Wyatt, e aggiungo la traccia, ok, quindi, uno, e va benissimo il colore, possiamo farlo bianco, nero, magari verde, no, solo bianco esce bello, ho già provato con tutti i colori, ma, come potete anche ben vedere voi, fanno tutti cagare, vabbè, almeno con il mio sfondo, quindi lo faccio bianco, è più bello, metodo fusione, posizione, queste cose qua, non li cambio mai, possiamo cambiare un po' l'opacità, prenderlo circa al 60%, quindi, andiamo nello sfondo, non avevo aggiunto sto coso, ah, non avevo schiacciato ok, è vero, mettiamolo tipo così, profondità, diminuiamolo un po', quindi andiamo in ombra interna, e possiamo cambiare il colore dell'ombra, vabbè, vediamo, aumentiamo l'opacità, lo diminuiamo, non cambia praticamente tutto, ah, la distanza, ok, aumentiamo un po' la distanza, così esce tutto nero, riduci, no, non serve a niente, dimensione, ora possiamo anche cambiare il colore, prendere un colore, sul verde, come lo sfondo, provare a schiarirlo, a scurirlo un po', vabbè, io faccio un po' casualmente, così si scurisce ancora un po', così si scurisce troppo, quindi non mi piace, preferisco farlo così, beh, più o meno come l'inizio, no, un po' cambia, quindi andiamo magari anche nella fitura lucida, e anche qui possiamo cambiare il colore, sempre prendendo quello del colore dello sfondo, perché se prendete un colore diverso, vi esce una vera schifezza, e lo cambiamo un po', magari aumentiamo la distanza, no, prendiamola, sì, più o meno così, va bene, e la dimensione, che non ne ho idea, vabbè, lasciamola al massimo, che almeno copre tutta l'immagine, poi c'è anche, vabbè, il bagliore, possiamo modificarlo come vogliamo, ma vabbè, lo lascio così, sovrapposizione pattern, anche qui possiamo cambiare questo, l'opacità bisogna diminuirla di molto, se proprio vogliamo farlo, e cambiare, no, non si può cambiare il colore, quindi lasciamo poco l'opacità, e cambiamo magari la scala, non si nota quasi neanche, un po' cambia, ma non si nota, quindi ora, guardiamo la differenza, se tolgo l'ombra, diventa più chiaro, se tolgo la finitura, diventa più chiaro, se tolgo tutto, diventa ancora più chiaro, se tolgo la sovrapposizione, si schiarisce un po', come vedete, ha scurito, leggermente, no, neanche tanto leggermente, ma di parecchio, se tolgo tutto, veramente più brutto, quindi la lascio così, che mi piace molto, gli dona molto, non per questo colore della maglietta, che fa un contrasto enorme, tra l'arancione, e il verde e nero, che c'è dietro, vabbè, quindi così, con questo, penso di aver fatto vedere tutto, vediamo se c'è qualcos'altro, vabbè, ci sono questi strumenti qua, che non so nemmeno io, che cosa siano, strumento occhi rossi, vabbè, se volete, giocateci un po', vabbè, potete, sfocare l'immagine, vabbè, ma, a volte serve, quando soprattutto, lo sfondo non è intero, guardate, se ad esempio, ho sposto il mio sfondo, aspetta, guardate, un attimo, prendo questo sfondo di 9, lo accorpio, lo rincollo qua, vabbè, adesso è sfalzato, lo so, vabbè, lasciatelo così, no, sotto, il mio sfondo principale è questo, io ad esempio lo abbasso, facciamo finta che lo sfondo finisce qua, e che non copre tutta l'immagine, andiamo qua, alziamo questo, per togliere questa linea, bisogna andare qua, sfoca, ingrandiamo, adesso non credo che si tolga, perché c'è l'effetto, se io tolgo gli effetti, guardate questa linea qua, che si nota benissimo, io vado qui, vado in sfoca, e mi seleziono un po' sopra, poi ovviamente una è più scura, l'altra è più chiara, quindi, vabbè, quindi non riesce benissimo, ma in teoria, se fate così, dovrebbe vedersi, no, perché sto sfocando quella sotto, e sono un critico, devo sfocare quella sopra, ecco perché, lo sfoco un po', e come vedete, la linea si toglie, a parte qua che, vabbè, l'ho posizionato male, quindi si nota ancora la differenza tra nero e verde, ma se voi guardate qui, se la rimpicciolisco qua, si nota, ma già un po' di meno, quindi torniamo indietro, così, che è molto meglio, vediamo questa cosa, poi vediamo, c'è lo strumento nitidezzo, sfumino, che non servono a un tubo, quasi, c'è lo strumento scherma, che potete, guardate, selezionare ad esempio l'immagine, e potete schiarirla, vedete, io posso continuare a cliccare fino all'infinito, invece c'è una roba sempre più chiara, adesso devo tornare parecchie volte indietro, ok, oppure c'è lo strumento brucia, che in pratica lo scurisce, fa l'effetto contrario, o se no, c'è lo strumento spugna, che non mi ricordo che cosa sia, ah, lo fa diventare tipo sul grigio, boh, una roba stranissima, che non uso mai, poi potete anche aggiungere un altro testo, se volete, scrivere ciao, cambiate il colore, mettetelo azzurro, almeno si vede, magari se lo selezionavo tutto, ciao, poi lo posso spostare dove voglio, metto qua, così a caso, poi c'è questo qua, selezione, tracciato, che non so cosa sia, come vedete posso selezionare quello che voglio, ma non succede praticamente niente, vabbè, poi, strumento rettangolo, potete aggiungere un rettangolo, potete colorarlo, come volete, ma vabbè, non so, l'ho usato forse una volta o due, vabbè, vedete, questi qua si possono rimpicciolire, e che cavolo ho detto, questi qua si possono rimpicciolire, ma non me lo seleziona più, vabbè, in teoria si può rimpicciolire, selezionando gli angoli, non so che cosa abbia fatto, ma vabbè, non mi interessa, vabbè, tutto il resto non serve a niente, c'è la gomma, se volete cancellare lo sfondo, ma ci mettete tre mani, vedete, per questo io quando devo levare lo sfondo, utilizzo il selezionatore, oppure quest'altro selezionatore, selezionatore seleziono la parte, prendo il cursore e lo sposto, quindi, vediamo se c'è qualcos'altro, qua non c'è niente, qua no, 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 ci sono questi strumenti qua, che non so che cosa siano, li ho provati una volta, ma non li uso mai, sfumatura, eccetera, eccetera, qua invece, cos'è che c'è? Tono automatico, contrasto automatico, colore automatico, non servono a niente, sti cosi, le uniche cose che uso sono dimensioni, rotazione, immagine, e nient'altro, poi ci sono anche tutte ste robe qua, che non ho neancora guardato, vabbè, prima o poi gli darò un'occhiata, ma finora non mi sono servite, e non credo nemmeno che mi serviranno, dato che non so neanche cosa siano, e così, con questo, direi che abbiamo concluso, e ho fatto vedere come si ruota le frecce, come si cola ora, come si seleziona, come si cancella lo sfondo, cavolo, ho cancellato la mia immagine, vabbè, fa niente, vi ho fatto vedere tutto quello che c'era da sapere, e ora, direi che sapete tutto quello che c'è da fare per creare le vostre carte, in bocca al lupo, e spero che vi aiuti in questo tutorial, ho fatto un tutorial completo di tutto, e ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti! Ciao a tutti!